Cari amici, dopo aver parlato in un altro video di Pelican, se vi ricordate l'avevo trattato appunto della Pelican M150, siamo passati a un livello decisamente superiore. Qua abbiamo una M800 Superan, quindi siamo proprio quasi all'apice della categoria di stilografiche. Dopo questa, in tempi abbastanza recenti, poi è uscita quella ancora più grande, la M1000. Ce l'ho un po' da diversi anni, un amico alla fine me l'ha ceduto, non l'aveva mai inchiostrata, insomma l'ho accettato volentieri, la desideravo da tempo, mi ha trattato bene. Questo vi faccio vedere la M150 per farvi vedere la differenza in pressione, diametro e anche lunghezza, insomma una penna decisamente più imponente, più importante, insomma una penna di tutt'altra categoria rispetto all'M150. Poi chiaramente ci sono ancora scale intermedie tipo M400 e M600, ma quelle non ne ho, ho preso questa, è un giorno mi piacerebbe magari anche la 1000, vedremo. Per parlare di penne, insomma di quella fascia, ad esempio mi viene in mente sull'Aurora, l'Aurora 88 Big, vedete che insomma siamo in quel reggio di misure, ecco le vediamo qua, insomma la M800 è un po' più importante come lunghezza, ma insomma le misure sono quelle. Poi il peso, insomma, non le ho pesate, però insomma nelle mani lo sento molto equivalente, sono due splendide penne e due concetti un po' diversi di pensiero, proprio insomma già vederle, parliamo di, insomma design, no? Questo esprime bene il concetto tedesco di penna equilibrata, ben fatta, ben realizzata. Qua abbiamo tutte queste cose, ma con un occhio alla parte artistica, no? Perché, secondo me, insomma la nostra capacità di, sul design, sulle finiture, insomma è tutta evidente in questa Aurora, ma non stiamo parlando di Aurora, bensì di Pelican, torniamo appunto a parlare di Pelican. Niente, si è già detto molto su questa pena, io torno sempre a dire, oh, non dimentichiamoci che, come ho detto nella precedente recensione sull'M150, insomma Pelican occupa un posto importante, queste penne io le trovo splendide nella loro equilibrata semplicità, perché già questo motivo c'è anche così in blu, ma anche in verde, è un acetato di cellulosa che fanno solo loro, è una lavorazione tutta particolare, insomma vengono tutte queste listarelle ed è in controluce, cioè si può vedere in controluce appunto il livello dell'inchiostro, caricamento a stantuffo, no? Quindi il pistone, la minuteria in ottono, è un po' pesante, ma insomma diciamo non è una penna super bilanciata, no? E ancor più se vada a caricargli il cappuccio secondo me diventa ingestibile, quindi io preferisco usarla così. Poi le parti della... vedete che appunto, cioè guardate poi comunque come è rifinita bene sulle verette, una grande, una più piccola, due verette qua, insomma una serie di cose, un'altra qua proprio sull'innesto, insomma poi guardiamo un attimo la parte pulsante della penna, questo è un brod, vedete, B, lo vedete, 18 carati, 750, quindi pennino in or molto molto bello, guardate che magnificenza di pennino veramente con una stampigliatura, col pellicano, insomma è una piccola opera d'arte, già solo il pennino. Quindi una resina di alta qualità sul cappuccio, da parte gruppo scrittura e qua sul codale che fa da avvitamento sul gruppo del pistone. Unica cosa, diciamo unico neonegativo che secondo me trovo in questa penna è purtroppo l'alimentatore in ABS, no? Quindi diciamo che su una penna che mi costa sui 500 euro, quelle d'attacco, insomma qua c'è, non siamo mai scesi, mentre su un'aurora un alimentatore che non fosse in ebanita, no? Poi per la carità va benissimo, adesso lo vedremo, vabbè l'avevo tenuto un attimo aperta, però certo va molto bene, la penna non c'è nessun problema, alimenta bene, quindi è calcolato bene, progettato bene su questa penna, però sono quelle piccolezze che voglio dire ti rovina mettergli un alimentatore come Cristo comanda in un altro materiale più consono, comunque vabbè, comunque non sono gli unici, anche altri tedeschi più blasonati hanno lo stesso problema. Però, insomma, franne questa piccola così, insomma, questo accentamento su questo problemino, cioè problemino, su questa cosa che insomma la fa un po' scadere, andiamo a parlare della penna, allora questo è un pennino importante, vedete, quindi ha, vedete, è un brote, però ha questa piccola variazione che mi permette veramente di fare tante belle cose, insomma questa è una penna, chiaramente non è la penna da punti, questa è una penna per firme, non so se devo mettere la mia firma, ogni tanto l'ho fatto anche con questa penna su qualche contratto importante o che l'ho tirata fuori, vi godete anche la mia firma, insomma è una firma importante, diciamo diventa, se lo facessi con questa, è una cosina molto più semplice, no? qua diventa veramente una cosa assontuosa, no? Direi, perché ho preso il B? Beh, mia amica va quella, ma a me va bene, nel senso ogni tanto qualche penna ben più importante, diciamo che non mi dispiace, vedete, scusate ero fuori, ecco, vedete mi sono divertito a mettere, guardate che bellissimo segno, ne è scaturito, la condotta alimenta bene, quindi quello niente c'è un po' progettata bene, ma insomma loro sono bravi, eh? La penna funziona veramente bene, no? Pennino, broad, quindi insomma una penna decisamente di sostanza su quel punto di vista lì, quindi che dirvi, è una bellissima penna secondo me, poi ripeto, le qualità le ha tutte, insomma, quindi facciamoci un obecedario molto velocemente, ma la penna proprio ha un pennino chiaramente rigido, stiamo parlando, ha questa piccola difformità di tratto che potete vedere, no? E quindi dà una piccola variazione, lo vedete posso, essendo rigido, insomma, problemi di mancanza di ossigeno, di inchiostro, ecco, non andrà mai a debito di inchiostro questa penna qua. Ok, ecco qua, mi sono lasciato andare un po' a qualche sgribizzo finale. Niente, vedete, ci sono anche variazioni molto interessanti, specialmente quando vado in accelerazione, era carica da, penso, un paio di mesi, ma l'ho presa, avete visto che ha ripreso tranquillamente a funzionare subito bene, quindi, insomma, quando andate ai Pelican Hub, portatevi dietro le Pelican e parlate anche un po' di Pelican, ascoltate me, poi va tutto bene perché in quelle occasioni lì è giusto, è giusto, è giusto parlare di penne stereografiche. Ok, siamo lì per parlare di Pelican, però, e quindi ogni tanto tiriamole fuori quando andiamo ai Pelican Hub, non parliamo solo di tutto lo scibile sulle stereografiche, ma, insomma, mettiamoci in gioco anche su quello che è il leitmotiv dei Pelican Hub. Ok, perché poi, appunto, loro ci fanno qualche anche regalino per Pelican Hub, ma è giusto, insomma, ricordare la bontà anche delle loro penne. E con questo vi saluto e vi ringrazio ancora. Ciao a tutti.